E salve a tutti amici coperiani e bentornati in questo nuovissimo video Finalmente dopo un bel po' di tempo siamo ritornati Ho avuto un problema col mio vecchio microfono Ho dovuto aspettare che arrivasse quello nuovo Però siamo arrivati nel settimo episodio Ovvero quello dei migliori proiettili Ma prima di iniziare vi ricordo che in descrizione trovate il link al mio discord Dal discord della community italiana E in più trovate anche la tabella di tutti i proiettili Se vi volete dare un occhio Come si capisce se un proiettile è buono? Non bisogna vedere soltanto il danno e la penetrazione come molti fanno Ma c'è anche da vedere la probabilità di fragmentation Ovvero che il proiettile si spezza e fa più danno Più tante altre caratteristiche del proiettile E in più bisogna anche capire con che arma andremo a sparare quel proiettile Ad esempio un MP9 che ha una velocità di sparo molto più elevata di un MPX Può far più male perché ovviamente i colpi vengono Vengono sparati più colpi in un breve periodo rispetto all'MPX Adesso vi andrò ad elencare i migliori proiettili più annessa arma Per farvi un'idea su che arma si può utilizzare Ma non ci saranno tutti i proiettili esistenti nel gioco Ovvero tutti i calibri Quindi io vado a fare l'elenco dei calibri più utilizzati Quindi iniziamo Troviamo il 12-70 Ovvero proiettili per i fucili a pompa E troviamo la slug AP.20 e i backshot fleccette La differenza è che la slug è un colpo singolo Mentre il backshot fa una rosa E l'arma un po' più conosciuta e più forte da usare con i pompa È il magico Saiga Poi ci sono i 9x18 i PMM Però i PMM non vanno su tutte le armi 9x18 Quindi voi provate a metterlo sopra l'arma Se diventa rossa non lo potete utilizzare Se no ci sono i PBM Quindi questi vanno su tutte le armi 9x18 E la classica arma utilizzata per i 9x18 Può essere una PM Ovvero la Makarov Poi ci sono i 9x19 e troviamo gli AP 6.3 Quindi l'arma è l'MPX Quindi qui arriva il discorso dell'MP9 e MPX che ho fatto prima Poi ci sono i 4.6x30 I migliori sono gli APSX L'arma più classica dove viene utilizzata E penso anche l'unica per adesso è l'MP7 Poi passiamo ai 5.45x39 E troviamo i 7N39 IGLENICK IBS E IBT IGLENICK sono i migliori IBS sono subito sotto E poi ci sono i BT Che sono diciamo Medio alto Quindi se li trovate Anche i BT Sono dei proiettili Che non vanno buttati via E la classica arma che noi tutti conosciamo È la K Poi ci sono i 5.56x45 E troviamo gli M855A1 E gli M995 Nella bilanciatura questi due sono i migliori E la classica arma utilizzata è l'M4 Poi ci sono i 5.7x28 E troviamo gli L191 Gli SB193 E gli SS190 E l'arma con cui si utilizzano è il P90 Poi troviamo i 7.62x39 E ce n'è uno solo dei migliori Che sono i BP E l'arma più conosciuta con cui si utilizzano è l'SKS Poi troviamo i 7.62x51 E qui ne abbiamo due Abbiamo gli M61 e gli M62 La differenza ovviamente Oltre ad essere il danno La penetrazione e tutto il resto Gli M62 sono traccianti verdi Quindi quando vi sparano Vedano i proiettili da dove parte E l'arma più classica conosciuta è l'M1A Poi troviamo i 7.62x54R E ci sono i 7BT1 I 7N37 E gli SNB L'arma più classica è il MOSIN Poi per ultimi Ma non per importanza Troviamo i 9x39 E in ordine di potenza Ci sono i BP Gli SPP E gli SP6 E l'arma più conosciuta è il VAL Quindi niente Sono arrivato alla fine di questo video E' durato poco Perché c'era poco da dire Spero che abbiate capito Perché nei proiettili c'è questo da dire Ovvero Ci sono tutti questi parametri Che vanno controllati E quindi controllate anche voi Nella tabella che vi ho lasciato In descrizione Quindi niente Per questo video è tutto Spero che vi sia stato Veramente veramente utile Per poter capire qualcosa in più Sui proiettili E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao 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 ciao